Sì, è importante sia per il fatto che poi andremo a affrontare due trasferte con due squadre Vicenza e Perugia in questo momento che vengono da un ottimo periodo, il Perugia le ultime due la vinte e il Vicenza da quando è arrivato Marino sarebbe la prima in classifica perché sta facendo un campionato straordinario. Le partite sono tutte importanti, poi magari come ho già detto in passato fare calcoli nel senso che una partita è più abbordabile dell'altra si fa solo un grande errore, bisogna pensare alla singola partita, affrontarla nel migliore dei modi e nella migliore condizione possibile. L'errore più grosso che possiamo fare è valutare la squadra in base alla classifica, ho già detto in passato che il girone di ritorno le squadre viaggiano, ho fatto l'esempio dell'Atina, l'errore più grosso da parte nostra è valutare la squadra in base alla posizione di classifica perché spesso e volentieri ci possono essere delle problematiche, ho fatto l'esempio del Palermo che se il girone di andata ha viaggiato, ha fatto un girone di andata piuttosto negativo, il girone di ritorno era una squadra di extraterrestri, ha vinto il campionato di scioltezza e la stessa squadra con qualche innesto perché i giocatori che hanno cambiato non sono tantissimi, stanno facendo benissimo in Serie A, quindi guai a noi a valutare la squadra avversaria in base alla posizione di classifica, non ce lo possiamo permettere perché magari noi il girone di andata o fino adesso abbiamo fatto qualcosa di straordinario, l'ho sempre detto, quindi guai a noi a sottovalutare, a pensare la squadra avversaria in base alla posizione di classifica. Sì, è chiaro che magari i punti sono gli stessi e a volte magari nel girone di andata si è fatto qualche pareggio in più, adesso c'è qualche sconfitta in più, però se dovessimo io ci mettere la firma a fare lo stesso punteggio del girone di andata, però ripeto, so quello che si è fatto per fare quei punti, ma non ci ha regalato niente a nessuno e quindi dobbiamo continuare con il lavoro, con la determinazione e cattive, ripeto, non abbassare la guardia perché il campionato di Serie B riserva delle sorprese grazie per cause che purtroppo ho cambiato di 42 partite, quindi guai a noi a sottovalutare ogni singola partita, guai a noi a pensare di aver già raggiunto l'obiettivo.